ciao meraviglie mie buonasera io sto andando a cena mi sono preparate volevo fare un recap con voi trucco basic fatto la base un po di mascara illuminante all'interno dell'occhio matita e luci da labbra ora facciamo un fit check stasera semplice tagliore azzurro ora lo tengo aperto per farvi vedere la braletta poi lo chiudo questo taglio di tagliore lo amo super over guardate anche dietro bellissimo e sotto sneakers greta rossetti ex concorrente del grande fratello ha intrapreso un nuovo percorso nella sua carriera girando l'italia per partecipare a eventi esclusivi nonostante il passare degli anni continua a mantenere un forte legame con i suoi fan tenendoli costantemente aggiornati su ogni suo movimento attraverso i suoi feed social greta condivide dettagli e momenti salienti di ogni evento regalando ai suoi seguaci uno sguardo privilegiato nel suo mondo ma non è solo uno show per lei greta si prende sempre il tempo di interagire e salutare i suoi fan di lunga data dimostrando un'affettuosa gratitudine per il loro sostegno continuo la sua presenza dinamica e il suo impegno nell'essere vicina ai suoi fan confermano il legame duraturo e la passione che greta continua a nutrire per il suo pubblico rendendola una figura amata e rispettata oltre il mondo dei reality grazie a tutti